Non bisogna operare sempre la spalla quando esce, bisogna operarla soprattutto nei pazienti giovani perché nei pazienti giovani è molto più frequente che la spalla possa riuscire. Nei pazienti oltre i 40 anni invece dobbiamo controllare il tegne della cuscita dei rotatori perché quando la spalla esce è molto probabile che in questo tegne si possa lesionare.